Il nord pronto a ripartire, il sud molto meno e a poco vale sapere che la Puglia sia un po' più resiliente delle altre regioni del mezzogiorno se poi si guarda al calonetto del reddito delle famiglie che fa segnare quota meno 3,2% con un dato più alto, tanto della media a sud quanto di quella nazionale. Il quadro è quello tracciato dallo Svimez, il centro nord con la ripresa 2021-22 recupererà integralmente il PIL perso nel 2020, mentre il Meridione a fine 2022 avrà ancora da recuperare circa 1,7 punti di PIL che si sommano a circa altri 10 punti persi nella precedente crisi e non ancora recuperati. Il rimbalzo pugliese è leggermente migliore rispetto al resto del quadro, si intende la regione ugualmente tra quelle in testa per aumento dei posti di lavoro insieme ad Abruzzo, Campania e Sicilia. E così sotto i riflettori finiscono gli effetti che produrrà lo stanziamento di 82 miliardi di euro il 40% promesso dei 191 del paniere del piano di ripresa e resilienza, primo nodo da sciogliere rendere efficienti le macchine o evitare che la più bassa capacità progettuale delle amministrazioni del sud determini il paradosso che la realtà a maggior fabbisogno finiscano per beneficiare di risorse insufficienti.